Le Final Four di questa Pool Scudetto ci offrono la possibilità di analizzare questo interessante torneo di fine stagione attraverso tantissimi aspetti, non solo moduli in modo di giocare e statistiche, ma anche ex che hanno militato tra le fila bianco-verdi negli scorsi anni. Partiamo dall'attuale trainer dei canarini lombardi, Matteo Contini, oggi condottiero dei gialloblu, ha indossato la casacca dell'Avellino nel campionato di B, targato 2003-2004, per intenderci quello del 2-1 con la Salernitana firmato da Kutuzov. L'ex difensore dell'era Zeman ha tra le sue fila Alessandro Favbro e Michel Panatti, entrambi bianco-verdi nel posto fallimento. Il primo è uno degli eroi di Catanzaro, l'altro invece ha trascorso in Irpinia due stagioni tra il 2012 e il 2014, prima di trasferirsi al Como. Ultimo ex della recente storia del calcio avellinese è Federico Angiulli, il Fez, così soprannominato il mediano di Segrate, ha giocato in Irpinia dal 2012 al 2015, dopo aver disputato due stagioni con la maglia dei Canarini tra il 2010 e il 2012. Andando indietro nel tempo e scavando negli almanacchi calcistici, ritroviamo altri due ex, Fabio Brini, portiere bianco-verde dall'89 al 92, e Maurizio Braghin, che ha vissuto all'ombra del Partenio per un'unica stagione, quella 82-83, ricoprendo il ruolo di difensore ed osservando le gesta di Salvatore Di Somma, Stefano Tacconi e Beniamino Vignola, senza dimenticare Geronimo Barbadiglio. Un'infinità di extra avellino e pergolettese, ma anche mille curiosità. La maglia gialloblu è stata indossata anche da Dario Obner. Il bisonte bianco nella stagione 88-89 ha totalizzato 30 presenze e siglato 6 gol. Tra i giocatori illustri che hanno avuto la possibilità di indossare la maglia della pergolettese, ci sono anche i fratelli Alessio e Mario Tacchinardi. Il primo più famoso centrocampista della Juventus è stato allenatore dei Lombardi dal 2011 al 2016 con una breve parentesi nelle giovanili del Brescia. Storie di ex che si intrecciano ed interessanti curiosità. Dunque, non solo fredde statistiche, ma questo e molto altro sono le Final Four della Pool Scudetto di Serie D.